ciao a tutti sono andrea rodini a partire dal 14 novembre presso la alessandro bentivoglio voice academy di viareggio cominceremo un percorso che partendo dall'interpretazione arriverà attraverso un percorso sulla creatività alla scrittura di canzoni inedite come massima espressione della identità artistica di ognuno di voi iscrivetevi il percorso sarà un percorso didatticamente innovativo e non vi pentirete della vostra scelta ci vediamo a partire dal 14 novembre 2020 covid permettendo ciao